Buonasera, eccoci, mi sentite bene? Buonasera a tutti, benvenuti e benvenute a questa conversazione di stasera qui all'Officine Grandi Riparazioni con Alessandro Vespignani, che qui a Torino non ha bisogno di presentazioni probabilmente più che altrove, ma che presentiamo lo stesso. È di formazione un fisico, ha un dottorato in fisica teorica alla sapienza, che è un dettaglio che tengo a sottolineare perché lo abbiamo in comune. Ma fa l'epidemiologo computazionale da più di 15 anni e oggi è professore alla Northeastern University di Boston, dove dirige e ha fondato il Network Science Institute e dove è attivo il suo laboratorio, di cui parleremo tanto stasera, il MOBS, che è un laboratorio di modellizzazione di sistemi biologici e sociotecnici. E da inizio ottobre è stato nominato presidente di Fondazione Easy e so che stasera ci sono tante persone di Fondazione Easy, quindi per questo non ha bisogno di presentazioni particolari stasera. Stasera siamo qui per parlare del suo ultimo libro, che si chiama I Piani del Nemico. Lo potete acquistare alla fine della nostra conversazione qui e il professore sarà disponibile per firmare, dedicare le copie che avete o che acquisterete. La struttura della conversazione pensiamo di chiacchierare per tre quarti d'ora e lasciare poi un quarto d'ora alla fine per le domande che avete liberamente da rivolgere. Il libro di cui parliamo stasera secondo me è prezioso perché offre un punto di vista inedito sulla pandemia, almeno in lingua italiana, che è quello di uno scienziato che ha informato le decisioni politiche, ha informato la politica. Ritengo che il messaggio più forte riguardi proprio questo rapporto tra scienza e politica, un po' perché appunto è visto da un punto di vista personale di chi ha interagito sia con le organizzazioni di salute pubblica americane, quindi il laboratorio che Alessandro dirige ha fatto parte del gruppo di gruppi che ha consigliato i Centers for Disease Control and Prevention statunitensi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma ci permette proprio di capire quanto è stato importante il funzionamento e il malfunzionamento di questo rapporto nel determinare l'evoluzione della pandemia, soprattutto perché è stato un rapporto tra scienza e politica in condizioni di emergenza e questo lo ha reso estremamente più complicato. E quello che chiaramente emerge dal libro è che questo rapporto è stato discritto e dipinto un po' dai media, diciamo da una serie di attori, come un rapporto molto semplificato e unidirezionale, in cui gli scienziati mostrano ai decisori politici le loro previsioni, le loro proiezioni, poi magari chiariamo anche che differenza c'è perché secondo me questo è un nodo importante, e loro, i politici decisori, sulla base di questi scenari e di queste analisi, decidono, diciamo, prendono le decisioni. Allora la prima domanda che pongo ad Alessandro è come e perché è successo che questo rapporto che è estremamente complesso, soprattutto in una situazione come quella che abbiamo vissuto, sia stato dipinto in maniera così semplificata e diciamo unidirezionale. Allora intanto grazie a tutti di essere qua, è un piacere vedere tante persone, ma soprattutto tanti amici, colleghi, collaboratori e persone che in un modo o nell'altro hanno attraversato la mia carriera, poi adesso con Covid non ci si è visto in alcuni casi per tre anni, quattro anni, quindi insomma finalmente è bello essere di persona. Chiara, grazie mille per la domanda che è anche una domanda però da, come dire, da un milione di dollari, insomma perché è una domanda di quelle che è pesanti, nel senso che cominciamo subito con quello che è il rapporto con la politica e lì si apre una scatola nuova. Diciamo, prima di tutto il rapporto tra scienza e politica è un rapporto che non è solamente politica, ma è politica e decisioni, che è una cosa ancora più complessa. È un rapporto che in alcune aree c'è e oramai diciamo in qualche modo è rodato, se voi pensate cosa succede con tutti i problemi meteorologici costantemente c'è un rapporto tra quello che è la scienza della meteorologia e quello che è tutto l'emergenziale che ne può derivare. Pensate alle emergenze sismiche, anche lì c'è un rapporto in cui in qualche modo si sono creati dei canali di comunicazione e trasmissione per cui i politici, anche i politici, anche i decisori sanno come agire. La pandemia era una cosa completamente nuova, cioè qualcosa per cui nonostante una parte importante della scienza e anche tante persone che sono sedute qui per anni abbiamo combattuto dicendo guardate che il problema della pandemia non è se ma solamente quando arriverà, in realtà non si è mai creato quel rapporto diciamo di allenamento, di automatismo tra quello che è il lavoro di chi fa quella che io chiamo intelligence epidemiologica e chi poi prende le decisioni. Per cui ci siamo trovati a disegnare questo rapporto in corsa e questa è una delle cose peggiori. Questa è la risposta diplomatica alla domanda. Poi c'è un'altra risposta che è quella invece che ovviamente in una fase emergenziale e drammatica come è stata quella del Covid, a un certo punto alla politica ha fatto estremamente comodo il famoso slogan con seguiamo la scienza, cioè quindi ogni santa conferenza stampa, ma non solo in Italia, in tutto il mondo c'era sempre questo rituale di dire noi abbiamo sentito gli scienziati e facciamo quello che ci dicono gli scienziati. Ora quello che ci dicono gli scienziati, nessuno scienziato, che sia uno scienziato onesto e sano entra in una decision room dicendo voi dovete fare questo. Uno va lì e parla di scenari, di possibili mappe del futuro, di che cosa può succedere come elementi di ragionamento che i politici e i decisori dovrebbero usare in una maniera che poi è pesata da tutto quello che è infrastrutture, capacità, risorse e in alcuni casi anche proprio visione politica, nel senso che ci sono delle scelte che possono essere di tipo etico, morale, alla base di quella che è la visione della società. Quindi in realtà i politici avrebbero dovuto andare nelle loro conferenze stampa a dire noi abbiamo ascoltato gli scienziati e poi per i seguenti motivi queste sono le nostre decisioni. questo non è mai avvenuto, è stato uno scaricabarile molto semplice in alcuni casi che è servito. Allo stesso tempo è vero che gli scienziati, e questo mi prende un po' le nostre colpe, inizialmente anche noi siamo rimasti un pochino turbati dalla situazione a cui non eravamo preparati e forse avremmo dovuto essere più incisivi nel parlare, e nel parlare non intendo parlare con i media, ma parlare invece con la controparte politica. Io qui chiudo sempre citando quella frase che probabilmente è apocrifa perché tutti dicono, appena c'è una frase politica viene attribuita a Churchill, è quella che Churchill diceva, gli scienziati devono essere a portata di mano della politica, ma non sopra la mano della politica, che credo sia un po' la visione che addirittura doveva, in qualche modo doveva essere interpretata, cioè noi dovevamo essere lì, dovevamo essere ascoltati, ma poi dovevano essere prese delle decisioni di un altro tipo. Io, diciamo, sulla difficoltà di ricostruire per il pubblico, per la società, come questo rapporto si svolgeva, preparandoci a questa conversazione ti ho chiesto, secondo te, una maggiore trasparenza sui processi, quindi sui luoghi, comitati, che ascoltavano gli scienziati, avrebbe aiutato? Perché una cosa che tu mi hai spiegato molto bene è che, appunto, come hai detto, nessuno scienziato o nessuna scienziata entrava in una decision room con una soluzione, ma quegli incontri erano a valle di una serie di scambi, in cui spesso erano i politici a chiedere certe analisi, no? Perché, appunto, la differenza tra previsioni e proiezioni era, nella proiezione, incorporo una, deciso di imporre una certa restrizione, vediamo che cosa succede e che differenza fa rispetto allo scenario peggiore in cui non faccio nulla. Però mi chiedo se, per esempio nel nostro caso, la maggiore trasparenza in quel processo, quindi lo scambio dei documenti, l'apertura al pubblico di quel segmento di conversazione avrebbe aiutato a disinnescare questa narrazione per cui abbiamo seguito la scienza che ci ha detto di chiudere da questo giorno a questo giorno e quindi... Qui è complicata la cosa, perché quello che succede nelle decision room, non è una conversazione per il grande pubblico, ovviamente, è una conversazione che avviene, diciamo, prima di tutto fuori dai denti e c'è sicuramente un problema di comunicazione, no? Io stesso, pensando a quello che noi dicevamo a gennaio, a febbraio, se fosse stato pubblicato sui giornali, sicuramente non facevamo del bene, perché si scatena possibilmente dell'isterismo su alcune affermazioni. Dall'altro la discussione dovrebbe essere tecnica, cioè dovrebbe essere una discussione in cui si va all'interno di appunto un avanti e indietro che non è mai stato descritto dai media, la narrazione è sempre stata, ma ci sono questi scienziati un po' matti che ci danno degli out-out, soprattutto che ci dicono che si può stare a tavola in sei ma non in nove, tutte queste cose che non sono nessuno di noi, ha mai detto niente di tutto ciò, come potete immaginare, e noi politici eseguiamo. In realtà no, all'interno delle unità di crisi c'è un dibattito serrato, cioè noi per esempio producevamo scenari che non sono, non è che li inventavamo noi, ci venivano chiesti, poi tornavamo con lo scenario e ci dicono ma adesso facciamo quest'altra prova, cioè apriamo, noi ci sono state chiesti cose che poi sono state riprese molto più tardi, ma fin dall'inizio si possono fare dei meccanismi due settimane chiusi, due settimane aperti, due settimane e mezzo aperti, una di scuola, poi richiudiamo tutto, cioè ci sono state fatte delle domande, delle cose, di cui onestamente in alcuni casi noi avevamo anche difficoltà a capire la logica, è una logica che invece era spesso legata alla logistica, al tipo di organizzazione e a tutta una serie di cose che vanno oltre quello che è l'aspetto di salute pubblica. Spiegare tutto questo è molto complesso, sicuramente è mancato per molti paesi però una semplificazione delle decisioni finali, cioè questo arrivare davanti alla conferenza stampa serale e invece di dire facciamo questo, questo e questo, spiegare un pochino il processo di cosa è successo. Io faccio sempre un esempio che in Italia quando è arrivata Omicron, oramai parliamo di un anno esatto fa, ci fu un momento di grande confusione, che facciamo, richiudiamo, tragedie eccetera. Allora in realtà tutta la politica, tutti i decisori sapevano, noi abbiamo passato le informazioni da fine novembre, che ci sarebbero stati un numero di contagi spropositati rispetto a quello che era stato vissuto fino a quel momento. Sapevamo anche che gli ospedali sarebbero stati di nuovo fortemente sotto pressione, però questa volta si poteva cercare, nei paesi che avevano deciso di avere una strategia salvaguardiamo il sistema sanitario, di riuscire a rimanere in una situazione non catastrofica come poteva essere con le ondate precedenti. Quindi c'era da prendersi dei rischi, perché c'erano dei margini di incertezza e c'era tutta una serie di cose da spiegare. Non è stato spiegato, è stato detto ma arriva Omicron, però va meglio perché è un po' più buona e adesso vediamo che succede. Poi dopodiché quando la gente ha cominciato a vedere mezzo milione di contagi che salivano in questo modo, c'è stato di nuovo tutta campagna di stampa, in realtà di nuovo spiegare il processo si può, non è che uno deve mettere, io non vorrei che si arrivasse appunto a mettere lo zoom all'interno delle unità di crisi, però in realtà un processo finale di discussione, di esplicazione di quello che è stato deciso avrebbe aiutato molto il pubblico, avrebbe aiutato noi scienziati, avrebbe credo alla fine aiutato anche i decisori. Purtroppo i decisori hanno sempre deciso di, in quasi tutti i poi paesi del mondo, di non usare i comunicatori, voi. Cioè la comunicazione è stata lasciata molto spesso proprio alla politica in prima persona o ad alcuni tecnici e questo spesso non ha aiutato. Sì, questo è un altro argomento che affronti, cioè la mancanza di una mediazione esperta delle informazioni. Quindi il fatto che in qualche modo gli scienziati che stavano lavorando per informare la politica erano, almeno in Italia, giustamente non parlavano e non raccontavano liberamente quello che succedeva, perché appunto il processo era complesso e non rilasciavano interviste quotidianamente. E quindi i giornalisti si sono tutti quanti rivolti ad un'altra serie di esperti e lì c'è stato un po' un cortocircuito tra la necessità di raccontare la pandemia, qualunque cosa sulla pandemia, e un po' forse il desiderio di alcuni scienziati di essere presenti in questo racconto. E qui c'è stato il grande problema che abbiamo tutti quanti, di cui siamo tutti testimoni, della confusione sull'expertise. E qui mi sembra che nel tuo libro ci sia un po' un… perché passando in rassegna le responsabilità poi arrivi anche alle responsabilità degli scienziati come gruppo, non solo le tue o non solo delle unità di crisi, che hanno un po' fatto fatica a rispondere non so quando i giornalisti chiedevano ai virologi delle considerazioni di epidemiologia o viceversa, è successo tutte le combinazioni. Quindi lì c'è stato da una parte credo una mancanza di competenza dentro i media, quindi giornalisti che il giorno prima facevano cronaca politica e il giorno dopo facevano la cronaca dell'epidemia e anche il giornalismo scientifico, perché non ci sono giornalisti scientifici dentro le redazioni. Però dall'altro anche un'impreparazione degli scienziati e una scarsa consapevolezza del loro ruolo pubblico. E se io comincio sugli scienziati è finita. E questa è la parte di autocritica che è importante. Allora, gli scienziati, intanto è una parola grossa, perché uno va a prendere tutta la classe la classe medica, la classe appunto più dell'intelligence epidemiologica, gli epidemiologi, a tutti. Sicuramente ci siamo comportati male. Abbiamo delle... la confusione mediatica che è stata creata non ha aiutato nessuno. All'inizio credo molte persone... Io voglio credere alla buona fede di tutti, poi però a un certo punto la buona fede secondo me si è persa e in alcuni casi si è entrati in una spirale di voglia, di protagonismo, di essere... Purtroppo la stampa, come la televisione e come altre cose, è una specie di droga, ovviamente, per cui molte persone volevano essere lì. Altre lo hanno fatto anche proprio nell'idea che invece volevano aiutare. Però, di nuovo, bisogna essere consapevoli delle competenze, come abbiamo detto. Io non mi sono mai sognato di andare né in televisione, ma neanche in nessun luogo più tecnico a dire come si gestisce un ospedale, perché non è quello il mio mestiere. Lasciamo perdere poi come si deve sviluppare un vaccino o altre cose. Io, il mio mestiere è quello di fare epidemiologia a livello di popolazione, cercare di anticipare, come abbiamo detto, le mosse del nemico, non di andare al paziente. Purtroppo molte persone invece a un certo punto hanno completamente stravolto il loro mestiere e io mi ricordo che sui giornali c'era di tutto, di più. Quindi ognuno, indipendentemente dalle proprie competenze, diceva cosa sarebbe successo tra una settimana, il che purtroppo è un errore fondamentale. Credo che questo abbia creato una sporcatura del nostro mestiere nella percezione del pubblico che poi non ha aiutato durante le campagne di vaccinazione. Cioè questa idea della scienza non ci capisce niente, quando non era vero, perché poi, appunto, tutte le persone che erano coinvolte professionalmente nella crisi non potevano parlare o parlavano molto meno, erano molto più attente, mentre invece noi abbiamo visto sui giornali che la pandemia finisce il 30 aprile alle 21 con cose tirate con la linea retta e con il corrighello. E tu dici ma perché? Il concetto di modello lì era un po' elastico, cioè modello era chiunque avesse dei dati e potesse fare un... Ma non c'erano proprio modelli, il problema è che erano veramente delle cose che non voglio discutere, non faccio nomi, però... Però appunto, diciamo, quello che si capisce è che questa descrizione semplificata del rapporto, diciamo, della scienza che informa la politica ha anche causato, appunto, danneggiato l'immagine della scienza perché le persone hanno detto se i decisori prendono delle decisioni sulla base dei consigli degli scienziati e poi molte decisioni sono sembrate sbagliate, allora sono i modelli, le previsioni che sono sbagliate e quindi da lì, appunto, la mancanza di fiducia nella scienza e nella scienza delle previsioni più in particolare appunto perché era diventato una scienza così, diciamo, con tutte le virgolette del caso e lì, secondo me, e tu lo dici all'inizio, è la primissima cosa che dici c'è stato il, diciamo, il grandissimo limite sulla comunicazione di queste previsioni era che non si parlava mai di incertezza e l'incertezza, intanto ci sono tantissimi esorgenti di incertezza nei vostri modelli, ma credo che sia stato anche un argomento scomodo nella conversazione con i politici e quindi mi piacerebbe che ci raccontassi quanto sono preparati i politici a parlare di incertezza a capire l'incertezza nella tua esperienza? Allora, l'incertezza è la cosa più difficile da maneggiare questo ovviamente per un decisore poi è anche un problema proprio alla base del suo lavoro io mi metto, mi sono messo tante volte nei panni dei decisori gli dai un intervallo di confidenza grosso così e lui ti guarda e ti fa oddio, e ora che devo fare? Il problema è che però questo si è in realtà nei media ha avuto un riverbero enorme cioè c'erano le previsioni o comunque le analisi di intelligence che erano il 25 marzo 3.276 casi questo tipo di cose qualunque persona vi dia un numero come previsione, un numero singolo vi sta pigliando per i fondelli perché un lavoro serio ha intervalli e margini di confidenza che in una situazione poi tra l'altro come era quella della pandemia sono molto ampi non c'è niente da fare questo è stato difficile secondo me al pubblico non è stato spiegato e non è stato spiegato in una fase poi fondamentalmente importantissima che è quella dei vaccini al pubblico non è stato spiegato che i vaccini non sono oggetti deterministici non sono cose che funzionano sì o no i vaccini funzionano con un grado di protezione che è misurato probabilisticamente eccetera eccetera questo avrebbe cambiato se uno imposta il discorso in quel modo già secondo me la percezione del pubblico sarebbe stata diversa nelle unità di crisi il rapporto con ovviamente è importante che ci sia i decisori tra i decisori politici e gli scienziatici deve essere una catena di trasmissione che sono alcune persone che lo fanno di mestiere cioè che sono persone tecniche che possono capire le cose e cercano di spiegarle e questo purtroppo non questo segmento è mancato per lungo tempo di nuovo è una di quelle cose che è stata fatta mentre c'era l'emergenza e tu vai da un primo ministro e gli spieghi i problemi di intervalli di confidenza e sicuramente non è il suo il suo mestiere è vero che uno vorrebbe una classe dirigente che sia più io lo dico sempre mi piacerebbe una classe dirigente un po' più alfabetizzata scientificamente e numericamente purtroppo in molti casi non è non è così sul problema dell'incertezza ma anche su che cosa sono gli scenari sul fatto che ogni rapporto che producevate che i vari gruppi di scienziati producevano per i governi c'è un punto del libro in cui tu racconti quando in Italia trapela un rapporto sulle prime riaperture e i giornali pescano uno degli n scenari prodotti il più catastrofico perché chiaramente questa epidemia si è scontrata con un'altra dinamica sociale che è quella dell'informazione in particolare l'informazione diciamo veicolata dai social media che preferiscono notizie sensazionali perché sono quelle che vengono diciamo ricompensate di più in termini di lettura e quello è secondo me un momento emblematico perché lì l'informazione era stata diciamo era arrivata il rapporto era trapelato ma i media ne hanno fatto un uso lì è il motivo per cui la domanda che mi hai fatto precedentemente quanto è bene avere trasparenza in quel rapporto in qualche modo lì è un esempio di quanto non funziona in alcuni casi questo è il famoso rapporto in cui a un certo punto si diceva guardate se riapriamo a maggio cosa succederà nei mesi successivi durante l'estate eccetera eccetera e lì tutti si attaccarono a questo famoso scenario fatto da Stefano Merler e il gruppo di FBK che producevano i numeri per il CTS e tutti i media si sono attaccati all'unico scenario dove c'era questa catastrofe infinita con centinaia di migliaia di persone in ospedale in terapia intensiva eccetera quello scenario non è uno scenario come abbiamo cercato di spiegare mille volte sbagliato era uno scenario di quelli che si chiamano non mitigati che servono a valutare quanta forza di impatto ancora all'epidemia cioè se non facessimo niente cosa è capace di fare questo mostro purtroppo quel mostro faceva delle cose ancora devastanti questo noi lo dobbiamo fare sempre è lo scenario da cui si parte per capire se ci dobbiamo mobilizzare o no quando molti di voi sono giovani e non se lo ricordano altri invece forse se lo ricordano nel 2009 noi abbiamo avuto una pandemia era una pandemia influenzale ma nessuno ha chiuso il mondo perché? perché anche dopo alcune settimane anche gli scenari peggiori non ci prospettavano catastrofi gigantesche quindi ovviamente sì c'era da fare le campagne di vaccinazione si è lavorato si allertavano gli ospedali ma era una situazione completamente diversa se la stampa in quel rapporto appunto c'era tutto quello che era stato poi in realtà la discussione con l'unità col CTS cioè c'erano altri credo un'altra trentina di scenari nessuno li ha neanche guardati c'era dentro c'era scritto proprio appunto che non bisognava fare le chiusure complete che bisognava cercare di fare le cose stato completamente ignorato e questo è un po' l'esempio del perché in realtà lì andavano spiegate le decisioni non parlando dello scenario catastrofico ma cercando di mettere l'accento sul fatto che guardate che dalle nostre analisi il virus ancora ha una forza d'impatto molto forte però possiamo cercare di controllare questa cosa e di essere molto attenti purtroppo quello è un esperimento che ci ha fatto vedere come non ha non ha non ha funzionato in realtà in quel caso i decisori avevano capito la situazione infatti sia il governo sia che i decisori furono molto cauti l'Italia ebbe un approccio molto molto cauto cosa che noi avemmo più difficoltà a comunicare negli Stati Uniti il problema delle riaperture nonostante ecco lì per esempio una delle cose che è successa in questo dialogo questo io lo posso dire quando addirittura a febbraio marzo si parlava di chiusure e tutti vi ricordate il famoso non so se in Italia si usava il crash the curve flatten the curve cioè abbattete la curva non so se c'erano questi slogan cioè c'era l'idea chiudiamo perché perché così si abbassa la curva e poi siamo e c'era questa idea che i decisori molto spesso dicevano facciamo questo sacrificio per un mese facciamo questo sacrificio per due mesi e in qualche modo prospettavano che la cosa fosse finita lì cioè che uno faceva questo sacrificio e infatti la maggior parte della gente all'inizio erano tutti pro lockdown pro chiusure perché c'era questa idea ci leviamo il dente facciamo tre settimane e poi si torna alla normalità noi in quella situazione a marzo a febbraio avevamo detto guardate che c'è un problema potete chiudere quanto vi pare nel momento che si riapre questa cosa ricomincia quindi bisogna pensare alla exit strategi vera eccetera eccetera lì per esempio una delle nostre colpe non fu puntare i piedi in molti casi e di dire guardate che realmente se invece tutti con questo focus sulle prossime tre settimane quattro settimane e poi dopo la discussione fu deragliata dall'estate anche lì altre storie che lasciamo perdere ma però questo parla della difficoltà cioè ovviamente c'è una difficoltà io non voglio dire c'erano i bravi i buoni i cattivi c'era una difficoltà nel comunicare e in tanti abbiamo avuto problemi anche noi proprio perché erano cose difficili da dire andare da un politico e dirgli guarda tu stai facendo delle cose che sono disastrose in questo momento stai chiudendo il paese l'economia è in ginocchio e tu non solo stai cercando di spiegare che va fatto quello in quel momento ma poi dovresti anche dire e comunque subito dopo non basta dobbiamo già pensare a quello che succede tra due mesi ti guardano come un pazzo scatenato purtroppo però era la realtà proprio diciamo su questa difficoltà all'inizio di comunicare un futuro che era non si era mai verificato prima e che era catastrofico questo senza diciamo esagerare tu dedichi proprio la prima parte del libro che è quasi nella forma di un diario quindi è il tuo punto diciamo la tua presa la tua in senso di coordinatore di un laboratorio quindi del tuo gruppo la presa di coscienza di quello che stava accadendo e in questo diario in qualche modo si può rintracciare come questa consapevolezza emerga dai modelli che pian piano prima sono modelli un po' più rozzi poi sempre un po' più sofisticati man mano che arrivano i dati e qui ci sono due cose che sono interessanti intanto racconti molto bene questo diciamo grande volontà di collaborazione e apertura tra i ricercatori di tutto il mondo che hanno anche messo in discussione le regole del gioco delle pubblicazioni quindi si è fatto un uso molto diffuso di questi dei preprint cosiddetti ma ancora prima di condivisione dei dati appena si avevano e anche questa narrazione che la Cina fosse un luogo da cui non trapelavano informazioni invece all'inizio le prime diciamo cose che i vostri modelli hanno capito le hanno capite grazie a dati molto dettagliati che arrivavano proprio dalla Cina quindi ti chiederei di ripercorrere questo diario queste diciamo tappe che vanno un po' dalla metà di gennaio fino alla metà di febbraio in cui diciamo la prima volta ti sei trovato a dover comunicare quello che veniva fuori i numeri che venivano fuori gli intervalli di confidenza che venivano fuori questa è la parte terapeutica per me stesso del libro in qualche modo perché quello sono pezzi e note che fondamentalmente scritti in quei giorni dove non si dormiva devo dire tutta la mia comunità non dormiva avevamo l'ansia che ci teneva in piedi e alla fine era un modo in qualche modo per scaricare a terra quello che succedeva noi le prime avvisaglie sono state all'inizio gennaio poi la prima convocazione vera che racconto nel libro fu il 16 gennaio io me lo ricorderò sempre perché era le 5 di mattina per cercare di tenere tutti i fusi orari tra costa ovest Cina Singapore eccetera e lì era già chiara che la situazione era pesante nel senso che noi avevamo fatto una prima serie di analisi credo che in quei giorni la Cina avesse dichiarato una quarantina di casi e a noi già ce ne uscivano qualche migliaio ordine delle decine di migliaia dopo quattro giorni di quell'incontro in Cina noi ne vedevamo quasi 70.000 100.000 e la Cina ne misurava qualche centinaio lì non c'è la cattiva fede della Cina non si possono proprio misurare le cose non si vedono non si vedono non c'erano i test adesso a noi ci sembra tutto normale il PCR è stato sviluppato il credo arrivi il 26 27 gennaio insomma quindi erano erano situazioni il 16 scusate il 16 17 gennaio insomma era una situazione molto molto complicata in quel momento la diagnosi si faceva con le si faceva con le radiografie con poi poi si è cominciato a fare i PCR ma i PCR una cosa è farne qualche decina un'altra cosa è avere un'industria non ci siamo riusciti poi fino a all'estate successiva ad avere numeri sufficienti e quella fu la prima consapevolezza cioè lì il primo momento realmente per me a metà gennaio di dire questa volta questa storia è brutta c'era sempre un po' la speranza che potesse essere qualche cosa come la SARS del 2002 cioè che usciva però poi si riusciva un po' a controllare la cosa non era non finiva lì il giorno peggiore della mia vita questo me lo ricorderò per sempre e ogni volta che ci penso mi vengono i brividi anche adesso raccontando con la prova di capelli ditti per me fu il 12 febbraio noi avevamo questa riunione in laboratorio dove erano arrivati finalmente dati su un numero di persone asintomatiche una forchetta grandi incertezze però che c'erano tante persone asintomatiche e delle stime su quanto i controlli alle frontiere riuscissero a identificare i casi introdotti internazionalmente avevamo messo dentro quei numeri e nell'arco di un paio di giorni a noi era venuto che in realtà c'erano centinaia di casi dispersi nel mondo e che tra poteva essere marzo poteva essere aprile lì c'erano grandi incertezze questa cosa esplodeva in maniera in maniera drammatica e lì veramente mi ricordo come tanti casi come anche qui possono raccontare a Lisi molti dei dei ragazzi di quei dei gruppi scientifici sono ragazzi di vent'anni venticinque anni io me lo ricorderò sempre le loro facce perché era della serie ma questa quindi che succede lì devi spiegare che il mondo sarà diverso e c'era questa completa distonia noi uscivamo la sera il mondo era tutto normale anzi a metà febbraio sui giornali si diceva che in Cina stavano la curva si abbassava e mi ricordo che su un giornale italiano si disse che la pandemia finiva il 5 marzo e noi appunto invece la sera tornavamo a casa e vedevamo tutti questi ristoranti bar pieni e l'unica cosa che ci veniva era l'ansia e sapere che la cosa sarebbe finita e noi abbiamo anche aspettato qualche giorno perché avevamo un enorme era veramente un messaggio grosso abbiamo aspettato di rifare tutto abbiamo usato delle assunzioni ancora più ottimistiche e i risultati non cambiavano il 19 li abbiamo comunicati all'OMS li abbiamo comunicati al CDC li ho comunicati anche a vari governi europei e da lì è cominciato un viaggio lungo diciamo dove appunto dove ho cominciato a vivere quel momento di cioè uno entra in una stanza e racconti che il mondo dovrà cambiare che la gente si deve preparare a cose che non ha mai visto e quando lo dici vi assicuro che è un momento orrendo perché ti senti pazzo ti senti ti guardi da fuori e dici oddio ma cosa sto dicendo io ringrazio di nuovo la collaborazione scientifica cioè era chiaro che non ero solo io c'erano altri team in altre parti del mondo con risultati analoghi e a quel punto non potevamo stare in silenzio quello della pluralità delle voci è un altro tema che emerge cioè come si forma il consenso scientifico e quanto sia importante avere tante persone che lavorano sulla stessa cosa tu lo dici in un senso di conforto quasi umano di dire mi sentivo meno solo e meno pazzo nel raccontare queste cose però anche questo credo che sia una cosa che difficilmente cioè che il pubblico più generale faticava a capire almeno qui cioè c'era questa idea che c'era un gruppo che faceva i modelli che poi parlava con i politici e quindi e poi quando sono cominciate le voci dissonanti lì non si capiva più niente ogni come dire il peso e l'affidabilità di ciascuna previsione era uguale che fosse un grosso gruppo che lavorava su quei temi da anni o che invece fosse uno diciamo che fino all'altro al giorno prima si occupava di astrofisica faccio un esempio diciamo la categoria la conosciamo no che poi dopo finisce i nomi no 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 i nomi no ce ne saranno più di un astrofisico che ha fatto quindi o astrofisica però lì diciamo l'importanza della pluralità e del senso appunto di collaborazione e comunità il pubblico non sapeva che dietro che c'è una comunità c'è una comunità di intelligence epidemiologico c'è una comunità che si occupa di questi di questi lavori c'è una comunità che anche in Italia appunto non c'era solamente FBK a Torino la fondazione lavorano Daniela era in contatto Daniela Paolotti era in contatto con l'OMS c'erano cioè c'erano meeting quotidiani tra tutte le agenzie del mondo e con gruppi che si occupavano di intelligence epidemiologica e noi discutevamo di queste cose appunto da metà a febbraio la cosa era era chiara io credo che a un certo punto era diventato intanto un supporto tra di noi perché i risultati erano talmente senza precedenti che non non vorresti mai essere il solo ad avere quel risultato e vuoi confermarli tre volte quattro volte vuoi che con metodi o approcci diversi si arrivi alle stesse conclusioni e quello è stato fondamentale e poi c'era la comunicazione cioè c'era comunicare i dati comunicare quello che stavamo facendo lì è vero come dicevi te prima c'è stato un abbandono di quello che è il metodo accademico usuale competitivo devo scrivere l'articolo devo fare quello cioè si è capito subito che non si poteva lavorare in quel modo si è lavorato mandandosi mandandosi le note di laboratorio direttamente cosa che non si fa mai cioè quelle cose che tu non fai mai in tempo reale ed è stato il modo per accelerare infinitamente i passi della ricerca molti dicono appunto molti non si ricordano ma in realtà a fine gennaio c'era già delle stime abbastanza accurate di quello che noi chiamiamo infection fatality rate cioè della probabilità di morte nel caso di infezione si era già capito che tutto era spostato sulle sull'età molto anziane cioè questi dopo 20 giorni fondamentalmente questo è una cosa senza precedenti quello che la scienza è riuscita a fare durante questa crisi è senza precedenti prima con l'intelligence poi con il management della situazione e poi con i vaccini questo va detto e ripetuto perché poi se no appunto nel pubblico si pensa no ma la scienza non c'è capito niente no la scienza è riuscita a tenere in piedi il mondo in un'altra situazione questa cosa poteva realmente finire in maniera molto molto diversa una cosa che ho apprezzato particolarmente è quando tu fai riferimento all'importanza dei dati praticamente qualsiasi articolo che parli adesso di tecnologia parte con una frase che si dice che i dati rivoluzioneranno però diciamo è sempre un po' retorica invece tu raccontandolo fai capire che il tuo attaccamento ai dati l'importanza che per i vostri modelli rivestono non è retorica e lì ho capito che diciamo lì c'è un po' una dissonanza tra quello che le persone immaginano della digitalizzazione della sanità della salute e quello che in realtà c'è succede adesso e come questo poi sia un ostacolo per voi le accelerazioni che invece ci sono state e quindi mi piacerebbe che tu ci spiegassi secondo te che passi avanti si sono fatti nell'avere più dati che tipo di dati e chi sono le istituzioni gli attori che dovrebbero contribuire a a produrre questi dati a condividerli quello che è successo nel pubblico è che dopo dieci anni o quindici anni oramai di slogan big data tecnologia questo e quell'altro tutti avevano in mente un film di Hollywood in cui noi eravamo lì a delle tastiere un po' come succede noi eravamo i nerd che con dieci click riuscivamo ad avere tutte le simulazioni ad avere i dati delle persone malate in ogni posto del mondo eccetera eccetera in realtà questa è la cosa più lontana non esistevano in alcuni casi erano state pianificate non sono neanche mai state messe in piedi delle war room di quel tipo perché non c'erano i dati io questo lo posso dire i dati all'inizio erano fogli excel c'è gente che ha mandato i fax ho visto delle cose che non avrei mai voluto vedere nel 2020 eh sì però è così quando a un certo punto tu vedi le cose contate a mano negli Stati Uniti i decessi avevano un ritardo mediano dalla data di decesso a quando venivano riportati di tre settimane cioè che cosa ci vuole per fare per avere una cosa tre settimane è infinito ho capito ci deve essere il coroner deve esserci la certificazione ma possibile non si riesce a fare in una cioè tutto questo lavoro in un momento in cui quei dati erano quello che serviva per salvare altre persone bene quello che abbiamo visto è che in realtà in alcuni campi quella rivoluzione big data tecnologia esiste nelle applicazioni commerciali in molti casi esiste in quello che è public health valore sociale invece non esisteva e i dati questa volta lo abbiamo visto e toccato sono realmente carne e sangue cioè voleva dire salvare o no delle persone questo se non lo internalizziamo e riusciamo a capire che gli attori non sono solamente le grandi big tech ma gli attori di questa rivoluzione intorno ai dati sono anche i governi sono gli enti sono le fondazioni sono siamo tutti noi il mondo della scienza noi andiamo ad avere come dire da una parte questa visione un po' edonistica del dato con cui produciamo delle applicazioni molto shiny però poi dopo non riusciamo in realtà a trasformarlo in qualcosa che ha un valore impatto sociale e questa è una delle cose importanti che cerchiamo per esempio di fare qua Torino con la fondazione Isi con il supporto della CRT cioè di trasformare questa conoscenza questi dati e andiamo oltre i dati i dati poi se non stanno dentro un'intelligenza degli algoritmi non generano valore cercare di trasformare questo in qualche cosa che abbia un impatto sulle nostre vite in un senso positivo purtroppo la pandemia ha acceso tutta una serie di meccanismi enormemente importanti per accelerare alcuni processi di creazione di questi cicli virtuosi dei dati e purtroppo li vedo abbandonati con la stessa velocità dell'uscita dalla crisi perché perché all'inizio tutti vogliono dare una mano tutti vogliono far vedere che possono aiutare però poi in realtà quello corrisponde ad uno sforzo che deve essere sostenuto e continuato di nuovo la scienza non la inventi durante la crisi la scienza deve essere pronta prima questa cosa che poi vai a chiedere la salvezza allo scienziato mentre intorno le cose crollano non funziona io spero che si possa fare qualcosa ovviamente ci sono tante realtà che funzionano e che cercano di avere un impatto in questo senso c'è addirittura in alcuni casi più sensibilità nel mondo imprenditoriale nel mondo corporate che purtroppo in alcuni ambienti governativi dove invece appunto l'uscita dalla crisi covid dice basta siamo usciti adesso si passa a un altro un altro problema tu spiegavi che appunto si fa presto a dire dati ma dietro per esempio i dati di mobilità che voi avete usato nei vostri modelli in particolare per cercare di capire come le persone reagivano alle misure di contenimento dell'epidemia c'è tanto lavoro non sono semplicemente un passaggio di un database c'è tutto il lavoro collegato alla identificazione per rispettare le regole legate alla privacy che è un altro grande tema immagino soprattutto sui dati sanitari e poi c'è l'adattamento di quei dati che sono dati per esempio di telefonia mobile per dei modelli che hanno certe caratteristiche quindi lì se ho capito bene le grandi aziende tecnologiche hanno fatto uno sforzo extra dal loro punto di vista durante l'emergenza ma anche loro adesso stanno ritirando risorse su quelle iniziative che sono ritornate a essere diciamo più per pubbliche relazioni che per altro sì diciamo che il le grandi tech che non faccio i nomi si sono subito lanciate hanno detto cerchiamo di aiutarvi in cose che chiedevamo da molti anni in realtà e che ovviamente implicano l'uso di risorse sia umane che economiche nel momento che c'era da dare una mano lo hanno fatto però è anche uno sforzo che non è sostenibile ad libitum per loro cioè loro chiedono vabbè e quindi adesso come facciamo ci deve essere qualcuno che si occupa anche appunto di trasformare di avere questa visione di valore sociale dei dati che genera delle risorse che possono aiutare l'altra cosa è che molto spesso in questa discussione è un pochino come dire semplificata dei dati e del loro potere che abbiamo vissuto negli anni scorsi c'è questa idea che i dati si stanno lì poi tu li il problema è prenderli o vederli non è quello dati sono dati veri quelli che poi si usano sono qualche cosa molto molto complesso da manipolare molto complesso da usare in una maniera positiva cioè non è che uno prende le tracce di telefonia cellulare e ci fa qualche cosa se non sono rappresentative della popolazione però quel processo che porta quelle tracce a diventare rappresentative della popolazione è una sfida scientifica è proprio come farlo per non parlare di tutti i problemi legati alla privacy tutto quello che è il privacy preserving algorithms cioè è pieno di grandi sfide scientifiche che hanno bisogno di essere coltivate costantemente giorno e notte perché poi un giorno servirà serviranno in realtà ci servono ogni giorno già adesso poi però ci saranno anche altri grandi emergenze poi qui diciamolo parliamo tanto di pandemia ma c'è crisi climatiche diseguaglianze conflitti cioè ci troviamo di fronte a un mondo dove oramai sempre di più vediamo che queste cose hanno un effetto di scala enorme e dove la conoscenza del dato ci potrebbe aiutare in maniera di nuovo enorme e purtroppo non ancora non si riesce a realmente ad avere una sensibilità vera a livello secondo me istituzionale politico di che cosa si può fare con questo lavoro io spero che ci si arrivi l'ultima domanda prima di lasciare però i spazio sono le vostre di domande e riguarda anche qui un po' questo atteggiamento di soluzionismo tecnologico per cui a un certo punto la tecnologia ci aiuterà in una serie di sarà fondamentale per risolvere questa emergenza l'esempio secondo me che primo che mi viene in mente è le app le applicazioni di tracciamento quindi l'Italia è stata credo una delle prime a svilupparla poi questa app è un po' scomparsa dalla comunicazione istituzionale quindi nessuno ha più detto niente nessuno ha riportato i risultati o almeno diciamo non ad un livello che ha raggiunto il grande pubblico che cosa per esempio su questo secondo te non ha funzionato perché questa specifica applicazione tecnologica non è stata sufficientemente sfruttata e non è stata di vero aiuto cosa è mancato nella sua concezione tante cose e dovrei dare la parola a persone appunto un po' come Ciro Cattuto che hanno vissuto da dentro quello per raccontare cosa è successo la cosa che mi preme di dire è che gli errori italiani non sono stati solo gli errori italiani sono gli errori che abbiamo visto replicati un po' dappertutto purtroppo ed è l'idea di avere un approccio un po' fideistico che esiste una pallottola d'argento una soluzione tecnologica che ci porta fuori dalla crisi questo non era ovviamente la situazione intorno a una cosa come il tracciamento digitale devi creare un sistema un sistema di incentivi per le persone ad usarlo un sistema di familiarità di chi deve eseguire poi il tracciamento e comunque in qualche modo assorbire i dati per analisi per lavorarci per intervenire tutto questo se non viene creato intorno l'applicazione può essere la più perfetta del mondo ma rimane solamente una soluzione tecnologica alla fine le grandi piattaforme che poi funzionano sono delle piattaforme che ritornano un valore all'utente perché intorno c'è qualche cosa c'è un sistema e c'è l'uomo e l'utente al centro in qualche modo purtroppo questo non è non c'è stato il tempo neanche per svilupparle in maniera sensata queste applicazioni perché di nuovo c'era questa idea che ne facciamo la soluzione tecnologica in 15 giorni e poi la liberiamo nell'internet e risolverà non è così poi in una pandemia non c'è anche qualunque soluzione non è una pallottola d'argento cioè servono tanti strati e quindi anche quello di nuovo è un lavoro che fa fatto di sincronia di come dire di allacciare questi layer tecnologici a tutto quello che succede al di là della tecnologia stessa io credo che però abbiamo avuto delle enormi lezioni delle grandissime lezioni da queste cose che dovremmo incamerare adesso ed usarle cioè che noi non si studi cioè il fatto che il tracciamento digitale sia stato un fallimento non vuol dire che non dobbiamo più provare a fare il tracciamento digitale anzi abbiamo capito dove non funzionano alcune cose ed è lì che bisogna agire e creare dei sistemi che la prossima volta possono funzionare meglio questo è per tutto quello che è stato gli interventi con la pandemia è cercare di pensare ad un mondo che va verso un una assorbimento di queste lezioni per cercare di di essere preparati purtroppo di nuovo quello che dicevamo vent'anni fa è valido anche adesso la prossima pandemia non è se ci sarà una prossima pandemia ma quando e che tipo di pandemia sarà quindi purtroppo mi dispiace di fare in questo senso un po' l'uccello del malaugurio ma questa è la realtà io spero di non vederne più un'altra perché ho abbastanza capelli bianchi però non è che non sono sicuro nemmeno di quello grazie grazie a voi grazie a voi io lascerei adesso lo spazio per le vostre domande se ci sono e ovviamente c'è da rompere il ghiaccio però andate tranquilli potete chiedere qualunque cosa anche le domande polemiche pure se volete ecco vai grazie intanto per questa bellissima discussione sono stato veramente attentissimo non ho perso l'attenzione neanche un minuto ma perché è stata veramente molto coinvolgente poi chiaramente tu l'hai vissuta in prima persona si sente anche patos voglio chiederti questo però adesso di dati ne avete tanti perché in questi anni poi hanno cominciato ad arrivare sono stati inizialmente probabilmente molto scarsi molto lacunosi mal presi eccetera però poi alla fine sono arrivati quindi sono sicuro che avrete fatto tutta una serie di simulazioni di quello che avrebbe potuto essere e così via ecco allora ti faccio questa domanda si è fatto troppo si è fatto troppo poco che cosa si sarebbe dovuto fare diversamente adesso che avendo la visione la back vision è sempre 20-20 come dicono gli americani scusa non ho detto l'ideon proprio per bene però voi adesso avete i mezzi per fare questo tipo di investigazione che cosa che cosa vi dice si è fatto credo che la lezione finale si è fatto troppo tardi non si è fatto troppo troppo poco troppo si è fatto troppo troppo tardi cioè si poteva fare meno agendo prima e questo oramai è un dato di fatto abbastanza visibile di nuovo io non faccio polemiche perché appunto di nuovo in quei giorni io ho assistito ero in un credo lo racconto nel libro in questa unità di crisi in cui ero ci fu un alto rappresentante governativo non posso dire chi che disse io non posso fare questo tipo di cose sulla base di equazioni e modelli matematici lo disse ma non in maniera provocatoria o dicendo no come poi magari invece abbiamo visto in alcune situazioni più pubbliche lo diceva proprio disperato perché in quella fase il tipo di cose che comunque andavano fatte anche partendo prima erano sembrano talmente gravi che l'idea che tutti chiudevano diciamo chiudevano queste riunioni dicendo ci devo pensare sopra quel pensare sopra era 3-4 giorni che visto sulla scala temporale sembrava niente purtroppo in 3-4 giorni era il tempo di raddoppio del virus e quindi tu vuol dire che alla fine hai aspettato una settimana 10 giorni e c'hai qualche cosa che è un ordine di grandezza è come gestire un terremoto di scala 5 Richter o di scala 6 noi sappiamo che sono due mondi diversi quel famoso ordine di grandezza che cambia tutto noi noi abbiamo lavorato purtroppo c'è stato un grande ritardo si poteva evitare di fare le grandi chiusure assolute si poteva evitare di avere tutto quello come era la rincorsa con i droni delle persone sulla spiaggia o dei runner quel tipo di cose cioè c'è stata una reazione poi dopo che è diventata ovviamente anche ovviamente eccessiva dovuta un po' al panico dovuta al non sapendo più cosa fare avendo adesso visto che la cosa è realmente grave allora io metto giù qualunque cosa soprattutto anche perché poi un pochino quello che è successo questo anche sempre nel troppo tardi è che in quei giorni non è che ci si preparasse poi realmente molto per cui alla fine quando poi si è arrivato a dire cosa si può fare è il si può fare cioè gli ospedali non avevano realmente ampliato i posti letto non avevano cioè c'è stata tutta una serie di cose che anche quella settimana o i dieci giorni prima potevano essere usati meglio poi c'è stata un'altra cosa che è la coazione purtroppo a ripetere alcuni errori che sono stati ripetuti nella prima nella seconda e forse nella terza ondata dove lì realmente non c'è stata una capacità di assimilare le lezioni quello è qualche cosa di più che oltre le analisi dati lì tutti noi ci aspettavamo una sensibilità diversa abbiamo spiegato che non bisogna aspettare e invece di nuovo si è sempre agito con questo grande con questo grande ritardo quindi per me la parola ritardo è la cosa più grave poi certo con i dati di adesso possiamo considerare quante morti avremmo risparmiato cioè è pieno di senno del poi che possiamo usare però qui io faccio un grande stiamo attenti nel senso io sono uno di quelli che ci faranno ci prepariamo a tutte le commissioni di inchiesta dell'universo che verranno fatte su questa cosa e tutte le commissioni del senno del poi di che cosa si potrebbe vanno fatte le voglio fare e bisogna discuterle perché impareremo però l'idea che noi adesso capiamo tutti gli errori che abbiamo fatto col covid non vuol dire che la prossima volta la prossima volta non sarà il covid la prossima volta sarà un'altra cosa completamente diversa che va a impattare magari delle fasce d'età diversa che ha dei tempi di trasmissione diversi quindi in realtà quello che noi dobbiamo creare sono dei sistemi che sono invece capaci di adattarsi e di incamerare l'informazione in maniera intelligente di nuovo come quando lo fai con le alluvioni con i terremoti c'è tutta una serie che sono addirittura insegnate a corsi universitari che cosa si fa di come si cambia di come si adatta a seconda di quello che sta succedendo sul terreno se noi non lo facciamo anche per le emergenze epidemiologiche in un mondo dove appunto purtroppo la circolazione dei virus cioè noi io voglio solo ricordarvi che siamo passati da covid a ritrovarci col bagliolo delle scimmie che per fortuna è un'altra cosa ma cioè ne passiamo cioè sembrano oramai cose che ogni sei mesi viviamo c'è già stato un altro outbreak di ebola quindi dobbiamo stare molto attenti se non creiamo questo sistema questo approccio sistematico alla crisi epidemiologica rischiamo di bruciarci di nuovo grazie grazie Alex io ho una domanda che si ricollega a una delle ultime cose che hai detto ieri o l'altro ieri Elon Musk ha fatto un tweet dicendo my pronouns are prosecute foci e quindi cioè quando tu dici ci saranno commissioni di inchiesta però la sensazione che qui si parte in realtà non con l'idea di cerchiamo di capire che cosa abbiamo sbagliato per fare meglio ma mettiamo in galera delle persone o diciamo condanniamole pubblicamente perché ci hanno obbligato a fare i lockdown e mi chiedo la domanda è cosa cioè riusciremo ad avere una diciamo un racconto comune almeno una comprensione comune nella memoria di cosa sono state quelle scelte come le stai raccontando tu adesso e che chiaramente dettate situazioni di emergenza ci sono magari stati degli errori ma appunto non c'è questo complottismo la visione del è tutto costruito o non bisognava prendere nessuna misura eccetera eccetera questa è una domanda bellissima su cui io in realtà sono molto molto pessimista purtroppo c'è una tale polarizzazione in questo momento che non eh lo so dai di nuovo lo so eh lo so purtroppo è così sono pessimista perché c'è un mondo talmente polarizzato che noi arriveremo no arriveremo a storicizzare questa pandemia ad avere una verità sulla pandemia ma ci vorranno una decina d'anni e diversi passaggi e quello tra l'altro quello che tu hai visto di Elon Musk eh ieri è una cosa molto molto grave che va a ricollegarsi con una domanda precedente quella lui è un classico esempio del no del fautore della tecnologia come risoluzione di qualunque cosa senza guardare al di là quello che è invece quanto può essere compresso un problema di public health e c'è un'arroganza una una anche diciamo vabbè una parte non voglio andare vengono delle parole delle mie origini romane che non posso ripetere e che appunto però è l'approccio sbagliato ci vorrà del tempo poi c'è se vuoi possiamo parlare dei problemi con gli economisti dei problemi con con tante altre persone che hanno creato visioni conflittuali che sono poi state usate dalla politica secondo me ci vorrà molto per ricucire ricucire i pezzi ma si ricuciranno questo questo sicuramente il problema è che ci sarà molto da lavorare una domanda più che altro sul futuro cioè lei ci ha detto finora c'è necessità di creare ovviamente qualcosa dei modelli adattivi che riescono in qualche modo non a predire la prossima pandemia ma poi riuscire ad adattarsi alla prossima pandemia dal suo osservatorio che cosa si sta facendo concretamente oggi se si sta facendo qualcosa dato che siamo in una fase comunque riflessiva dove possiamo prenderci del tempo per iniziare a ragionare in vista di eventuali eventi futuri grazie questa è un'altra domanda bellissima che mi piacerebbe che sul palco ci fosse qualcuno che rappresenta il fare no? cioè che cosa vuol dire fare adesso fare vuol dire creare ad esempio dei centri nazionali esattamente come esiste il centro nazionale di sismologia esiste il centro nazionale di meteorologia un centro nazionale di emergenze epidemiologiche per esempio creare quello quindi creare un modo di avere intelligence che non è inventata mentre succede l'emergenza ma che è preparata che è rodata che sa comunicare che fa esercitazioni costanti con tutti i i decisori si tratta di creare una piattaforma di sequenziamento genomico diciamo del livello che serve ad un paese come l'Italia e di aiutare paesi che sono al di fuori di quello che è il mondo occidentale a creare piattaforme di questo tipo si tratta di avere i famosi piani pandemici non sono piani pandemici nel senso che c'è i 15 pagine di un piano pandemico in un cassetto ma è qualche cosa dove c'è un piano pandemico esattamente come si usano i piani della protezione civile dove tu sai quante ambulanze quanto quanti dispositivi di protezione uno ha eccetera eccetera cioè va va creata questa cultura questa cultura si deve nutrire dei risultati scientifici che sono tantissimi perché in quello invece sono molto ottimista cioè quello che abbiamo capito in questi tre anni è tanto va però adesso trasferito va allacciato con la società questo però senza una reale volontà non succede quindi io lo dico per me può essere chiunque il presidente del consiglio dei ministri non mi importa il colore la cosa ma ci dovrebbe essere in questo momento un mettere in piedi una serie di presidi in maniera istituzionale non so quanto questo avvenga ad esempio negli Stati Uniti abbiamo faticato tantissimo finalmente c'è un centro nazionale che si chiama Center for Forecasting and Outbreak Analytics che comincia a funzionare e che assorbirà molte molte risorse proprio per istituzionalizzare quello che noi abbiamo fatto come lavoro in altri paesi io non vedo questo accadere in maniera molto molto veloce c'è un c'è più che altro invece vedo questa voglia di rimozione anche dal punto di vista politico purtroppo io spero che adesso passato adesso ci può essere anche un effetto psicologico oddio abbiamo parlato talmente tanto di pandemia occupiamoci anche di altre cose purtroppo poi siamo passati da una crisi all'altra anche storicamente questo non ha certamente aiutato quindi magari adesso nei prossimi mesi nei prossimi anni si riuscirà a riprendere le fila di molti di questi discorsi però vuol dire un grande sforzo vuol dire vuol dire impegnare persone intelligenze risorse e spero che si faccia ciao mi è sembrato di vedere in tv che il migliore degli scienziati animato dalle migliori intenzioni diventa carne da macello sull'altare della polarizzazione praticamente i migliori scienziati sono stati fatti a brandelli in tv non rendendo giustizia secondo me neanche la comunicazione allora posto che non andare significa abbandonare il campo manualetto di comportamento manualetto di comunicazione o semplicemente la tua opinione su come si va a comunicare in tv come uno scienziato chiamato andare a comunicare in tv può farlo in una mania sana beh il manualetto non lo scrive io lo scrive magari lo scrive qualcuno che si occupa di quello allora fatemi fare una cosa fatemi dire una cosa gli scienziati non hanno un training comunicativo nessuno di noi ha mai ricevuto corsi su come si comunica andare sui media o in televisione è stato sentito almeno da molti credo anche da me da altri realmente un impegno civile io lo so che ci sono leggende di agenti e di di contratti di cose io giuro che non non so se sono veri o no perché non è mai successo niente di tutto ciò cioè si fa si faceva per cercare di comunicare quello che era una situazione molto molto complicata si possono essere fatti degli errori ci sono comunicatori professionisti e da loro dovremmo imparare io ecco se vuoi più che il manualetto tutti gli scienziati che ambiscono a un livello di comunicazione dovrebbero seguire dei corsi e loro li potrebbero fare perché a un certo punto poi se tu fai comunicazione ti troverai a dover dire io che sono epidemiologo però a dover fare il commento magari sul vaccino e lì devi immediatamente come loro sanno invece proprio di mestiere avere attenzione aver letto quello saper discriminare eccetera questo purtroppo molti colleghi non lo hanno percepito credo che adesso ci sia forse un po' più un pochino più attenzione poi sai manualetti dipende anche da chi li vuole seguire e chi non li vuole seguire ci sono anche persone che hanno secondo me in maniera un po' più personale deciso di non seguirli per fare magari per avere più effetto in quelle che erano le loro esternazioni quindi poi non dimentichiamoci che gli scienziati sono uomini non è che c'è l'idea ottocentesca dello scienziato cioè ognuno ha avuto poi motivazioni e pulsioni diverse anche nel comunicare però di nuovo la palla va ai comunicatori come è chiara proprio in quel senso in Italia per esempio io questo lo devo dire in Italia non ci sono comunicatori scientifici ci sono quanti siete pochissimi i giornali non hanno una redazione di comunicazione scientifica cioè i giornali fanno l'inserto delle scienze una volta alla settimana con un po' di cose messe lì da contributori non c'è una cultura vera di questo tipo all'inizio della pandemia la telefonata che io ricevevo classica era guardi io sono uno che si occupa di cronaca nera ma in questo momento siccome si parla solo di pandemia io non ci capisco niente mi spieghi le cose per bene è ovvio che qualunque cosa succede in quel tipo di comunicazione sì c'è lo scienziato che magari non spiega anche bene le cose ma c'è anche una mancanza completa proprio di cinghia di trasmissione io spero che di nuovo c'è un valore della scienza che in questo paese come in tanti altri deve essere deve diventare più importante cioè la scienza non è ingegneria cioè questa visione purtroppo di alcuni paesi in cui se sei uno scienziato sei un tecnico ecco su quello e in qualche modo quindi non non c'è un valore vero e poi quello un valore culturale è un valore culturale che fa sì anche che tu scienziato ti senti più investito nel dover comunicare le cose in un modo in un modo accurato e giusto è un passo fondamentale noi durante questa pandemia abbiamo visto veramente una scherzezza di comunicazione ben fatta enorme enorme io se posso aggiungere solo una cosa poi dobbiamo chiudere che non sono sicura che accettare sia sempre la cosa giusta ci sono alcuni contesti in cui secondo me diciamo forse è opportuno rifiutare un po' per qual è lo schema del gioco cioè se sei se vai a finire in un talk show tu farai diciamo verrai contrapposto a qualcuno che magari rappresenta l'un per mille della comunità scientifica ma su quel palco voi sarete pari e quindi forse in quel caso è meglio non accettare in altri casi Alessandro questo lo racconta se tu vieni chiamato per parlare di una cosa di cui non sai nulla è difficile che tu riesca poi a mantenere la barra dritta nella conversazione forse lì vale la pena e questo forse aiuta anche i giornalisti la giornalista o il giornalista che ti chiama a capire che non sta centrando cioè la storia che racconti è mi chiamano per il problema della trombosi post vaccino AstraZeneca rispondo che io non ne so niente non ci vado io lo racconto nel libro sono quasi stato insultato perché non volevo andare in alcuni posti in alcuni casi perché sapevo appunto le regole del gioco e quindi ma perché devo andare a fare il in qualche modo il cretino in un dialogo così in altri casi perché appunto non ero io che dovevo parlare c'erano colleghi che invece dovevano essere però ogni volta che ti rifiutavi eri visto come un pazzo come per dire ma come venga lei dice la sua la sua opinione dico ho capito ma la mia opinione che valore ha se non è però questo questo di nuovo fa parte di quel manualetto di quel decalogo se vuoi che dovremmo tutti imparare conoscere a memoria e internalizzare che però è un fatto di appunto dovremmo insegnarlo all'università grazie 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 mille chiusura io prima ero stato avevo non avevo firmato delle cose ma firmo tutto quello che vuole scusatemi grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti